Belen e Iannone stanno ancora insieme, crisi superata Crisi superata tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Nelle ultime settimane Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati spesso al centro del gossip. Soprattutto a causa della loro crisi sentimentale. . In molti hanno pensato che i due stavano per lasciarsi, ma alcuni loro amici avevano smentito dicendo che si trattava solo di un periodo difficile. Solo pochi giorni fa la Rodriguez e Iannone erano insieme ad una cena di famiglia, lindizio aveva già lasciato intendere che le cose tra loro iniziavano ad andare meglio. . A quanto pare tra e due è tornato finalmente il sereno. La coppia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio, appassionato a Roma. . È stato il settimanale Chia pubblicare in esclusiva le foto del bacio, in edicola da domani 13 dicembre 2017. . Di certo le foto dovrebbero servire a mettere a tacere le voci relative alla loro crisi. . Andrea Iannone fa sapere che parlerebbe lui stesso della rottura con Belen. . Intanto, Andrea Iannone ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, dicendo che lui stesso parlerebbe della rottura con Belen e la notizia fesse vera. . A suo parere chiunque è libero di dire ciò che pensa, ma se ritiene che qualcuno esageri nel dire cose non vere si sente libero di dirlo. . . Ad ogni modo, il pilota ha detto che solo lui e chi lo circonda sempre può conoscere la verità che lo riguarda. .